GCEP è una società di servizi e di consulenza che opera all'interno del Veneto e del Nord-Est. Come tale è a contatto con le più importanti realtà produttive del territorio. Il CIMBA è un consorzio di 37 università americane che ha scelto come unica sede all'estero il Veneto e Asolo in particolare. Il CIMBA organizza un Master in Business Administration ogni anno, attraendo studenti provenienti da ogni parte del mondo. Abbiamo deciso dunque di mettere a fattore comune i nostri relativi punti di forza. La conoscenza del territorio da parte nostra e l'attrazione di studenti provenienti da ogni parte del mondo da parte del CIMBA. È nato dunque il Premio Nord-Est al miglior progetto di internazionalizzazione.